musica 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 guarda come sono vestita cosa ho fatto? che devi andare a metterti ai vestivali? no vabbè ma guardami che sono tornata a montaani ah 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 i vestivali li devo mettere ma devo ancora prendere la sella e tutto non ho aperto questo video però non importa tanto i video maneggio lo sapete qui oggi maneggio perchè voglio fare un video con i miei cavalli eh ma andiamo prima a mettere i vestivali è pieno di mosche io ero rimasta in inverno quando smontavo prima di ormai oggi ho la coda ho la coda? eh perchè mi sono lavato i capelli l'altro ieri e me li sento un po' sporchi ieri? no l'altro oh già è vero? vabbè fai niente fa caldo i cavalli non mi fanno parlare non posso in questo video farò ehm delle cose assurde ovvero montero cavallo andrà un po' al trotto anche un po' a galotto ah ma fanno così perchè deve arrivare la pappa infatti se ne ero veloce prima che mangino la pappa ma aspetta ma cosa faccio i piedi al... ma dove stai registrando? te? no stavi registrando io no comunque vorrei far notare che hai cambiato gli stivali no ma già vedevano magari qualcuno sa che c'è questo non mi serve adesso ma io l'ho preso eh si ma adesso mi serve ora vi farò vedere come si pulisce un cavallo non iniziare te col tuo vizio ma sbaglio che Firefox è diventato più scuro? vero vero no io l'ho vedo più scuro ora adesso hai idea il poverino vede tutti i cavalli mangiare lui poverino no amore tra poco mangio intanto ci pigliamo vuoi pulirlo? cioè no lo faccio io perchè mi mancava volevi eh volevi pulire fai si perchè? era il mio mestiere no su 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 Ah beh, c'ha una fascia perché probabilmente stanotte se ne è tolta una. Sotto sella della Lombardia che mi è andato quando... Andavo in Lombardia. Quando vincevo, praticamente ero diciamo che eravo montane, però ora non lo sono più. E ho fatto parte della squadra Lombarda, Fiera Cavalli-Verona del 2015. No, 2017. Momenti che non torneranno più. Grazie, mi hai già liberato la sella. Mentre parlava del comitato Lombardo. Tu inizi a mettere questo coso e adesso quando metto la sella. Vai. No, no, dall'altra parte. Va bene, ho capito, lo faccio io. Dai, ma era bella la ripresa. Allora, probabilmente qualcuno sotto questo video mi dirà Ma non si sella in questa sequenza il cavallo? Perché a molti, magari, prima mettono le stinchiere, prima la cuffia, poi il sottosella, poi la sella, poi sopra questo. Non c'è un ordine. Io a volte, prima inizio delle stinchiere, prima della testiera, prima della sella, a caso. Dipende cosa c'è. A volte non lo sè, a volte c'è proprio, mi dimentico di avere dei cavalli, eh, che non li monti. È vero. E' fatto totalmente a caso a sellare i miei cavalli, vero, Falco? Se lo sta dicendo di sì. Sì. Mezzogiorno ho mangiato il pollo. Mezzogiorno? A le tre, più o meno. Ma che alle tre? A le tre siamo arrivate, è vero? Eh, voi sembrano tipo alle due, un'e mezzo. Verso l'un'e mezzo diciamo. Vabbè, mezzogiorno. No, era l'un'e mezzo. Ho mangiato il pollo, tre pezzi di pollo, un po' piccanti. Ce l'ho sullo stomaco, mi vedo tanto. Adesso passeremo alle... Stinchiere. Questo, e qua le pulite. Queste qua. E c'è queste stinchiere, poi c'è queste qua che però devo pulire, poi c'è queste che sono rotte ma non riesco a buttarle. Queste qua tutte sporche che devo pulire. Sono un po' disordinata ma adesso io mi impegnerò a essere ordinata, a pulire tutto e mettere tutto in ordine. E chiudere chiavi perché poi mi lamento che non trovo più le cose. Mi aiuterai te. Devi ammettere che quando ci sono io si iniziate a diventare più ordinata. Sì, no, questo è vero. Non va definito. Io prima di mettere la testiera metto il cap. O prima di mettere l'ultima cosa comunque metto il cap. Mi giro la crappa. Adesso io mi metterò lì. Metterò il cap. Perché il cap, raga. Ma always mess. Oddio. Mi sono emozionata. Ehi, venga il muro. Eh, ti odia. E ti tira il calcetto. Non è vero. Ciao, chi sei? Io sono. Ciao. Ma come ti faccio? Ma c'è? Aia, mi ha morso. Ti odio. Non lo voglio più. Ma io mi ha fatto maligno. No, lo. Beh, potrissi. Pensa se mi mordeva la clavicola. Andiamo a montare. Aia, che male. Fai, come ho fatto malissimo. Non so perché, mamma, da poco. Ma non lo puoi capire. Guardate quanta gente il maneggio. Paura che ci sia troppo casino e mi butti giù veramente. Senti, saliamo dalla scletta. Oh no, è buio il campo. Ehi, sto salendo. Sto salendo. Sto salendo. Oh, le. Ti mancava questa ebbrezza? Eh? Hai paura? Adesso non terrò così perché ho paura che di spaccarmi ancora. Permesso. Avanti, c'è. Grazie. Ma che c'è da dire? Ma non c'è sangue? No, no. Oh, ma c'è il pollo che devo... Mi presti un pony così ti inseguo col pony? Adesso lo compriamo così quando mi farei video e maneggio... Ti seguo col pony. Andrei sul pony e io mi sto andando tranquillo. Oppure una jeep. Se mi presti comunque a comprare la jeep. Prendi quella di tua nipote e quella piccolina. Eh, ma... Oggi potevamo fare la smrr qua dentro. Proviamo? Cammina. Eh, non è. No, ti metti a stare proprio dietro a casa così. Mi ha appena morso, lo vedo un po' nervoso. No, in realtà non me la dovevi mettere così perché volevo riprendere. Il collo d'ermicavallo che è così. È proprio la visuale di quando sono caduta. La stessa è identica, è incredibile. Ma non c'hai tipo il vero cavallo? No, ma mi hai già chiesto. Ma è una cosa in... Sì, The Carly, come si dice? Boh, l'avevo studiato a scuola guida. Guardate come io sono in questo momento. Wow, andiamo a vedere il prato. Firefox tu vorresti questa libertà, vero? Vero? Invece no, sei intrappolato qua. Che ti devo montare? Raggiungiamo l'altro otto. Tieni. Sono brava? Sei bravissima. Come prima, sono super brava. Quando salti 77 te lo dirò. Sì, sì. Sì, cosa devo fare? Allora, Capriola all'indietro. Tieni i talloni bassi. Dagli una gambata. È solo quello che mi viene in mente. Devi dire di cambiare di mano. Cambia mano. Ok, subito, maestro. Cambio anche i diagonali del troppo. Wow. Poi cosa devo dire? E dimmi di iniziare a prendere le redini in mano bene. Inizia a prendere le redini in mano bene. Rotondo. Ok, così. Ma sei emozionato di essere ancora a cavallo? Sì. Stanca. Ah, stai. Galoppa. No. Dai. No. Galoppa. No. Ok. Ecco. Vai, poi. Galoppa. Tieni il redini in bene. No, oggi da qui è il primo giorno. Mi faccio la vera molto. Ciao mamma, sono in tv. Senza mani. Ma tu, cioè, tu torni a montare e vai senza mani? Eh. Cioè, non sei tanto a posto. Io amo il rischio proprio. Monta il western. Bravo. Cambiamo di mano. Cambiamo di mano. Non voglio romperle le scatoline, è un lavoro molto 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 tranquillo. Salta in piedi sulla sella. Eh? In piedi sulla sella. In piedi? Sì, sulla sella. Sì, sulla inforcatura. Sì, sulla inforcatura. Inforcatura. Ma l'inforcatura non è il forchettone? Non lo so spiegare. Sì. 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 Perché mi fai svegliare ogni giorno alle sette per andare a montare? Sì, perché si stanno avvicinando l'estate e i cavalli dopo un certo orario hanno tanto caldo. Per cui alle sette, no, non in piedi alle sette, in piedi alle sette meno un quarto, alle sette un quarto fuori di casa, così arriviamo al maneggio circa otto meno vento, ok? Con il traffico otto meno un quarto. Mettiamola così. Passeggio. Sarò felice. Passeggio, passeggio. Amore, mi dovrei comprare le scarpe nuove, lo sai? Sì, ma se le compri tu. Esco. Sbattola la testa? No. Accipicchio, sono proprio bazzo. Scendi, va? Andiamo. Andiamo, segni. Adesso lo risiede in box perché c'è il mangino e vuole mangiare. Ok. Vediamo. Cosa ci fai vedere? Che mangerò il cibo del mio colore. No. Sì. No. Sì, guarda. Quanto mi dai? Beh. Andiamo ad assaggialo. No, ma perché non puoi mangiare le cose brutte? Ancora, guarda quanto ne mangio. Ma perché? Sei felice? Che gli altri hanno finito di mangiare e invece tu mangi adesso. Eh, appunto, perché allora mi hanno sbranato tutto prima. Adesso mi deve essere felice che ce l'ha. E gli altri no. Eh, sì, ma basta andare a mangiare le mangiare. No, lo pido è. Ti dimmi questa. Questo è il mio lavoro ogni giorno. Sì. Oppure mettere il grasso a Ezza, a colorci il cap, perché si muore l'italia. C'ha dei capelli di cacca, lo so. No, dai, qua vedi, no? Che schifo. Dai, no, me li hanno finito adesso da rimanere la mona. Che timere, che senti. Cipicchio. Per chi non aveva ancora visto il mio supercap, guardatelo qua. Me l'ha appena messo via. Eh no, ma proprio bene. Comunque prima. No, guarda. C'è il brillantino rosa e dietro c'è il mio vecchio logo, purtroppo, perché... Cioè, no, è ancora il mio logo, però quello dei cavalli non è così. Va bene. È vero, questo non è più tuo logo. Eh no, è solo quello di YouTube. Che è l'altro logo, eh. Quello per cavallo, che non ho qua, ce l'ho nel cassone. Non ho qua, ce l'ho nel cassone. N'er cassone. N'er cassone, perché noi siamo romani, no? E devi capire che mo' facciamo tutti i video in romano, perché ce va così. Niente, io adesso batterò le mani. E in 0,00001 secondo il cavallo sarà dissellato e magicamente fuori dal botto. Ma tu resterai qua, ferma? Guarda. Eh! Cavallo dissellato in 0,0001 secondi. Adesso tu metterai il cassone. Dai, è lì. C'è il sole contro luce, per questo si vede malissimo, raga, aiuto. Cioè, scusate. Scusate. Sì, però veloce, eh. Oggi, oggi. Senza farti calpessare dal cavallo. Au! E gira del cavallo! Uuu! E girate il mio cavallo! Mi collezco. Le gambe. Eh! Eh! Saluta! Saluta Antonio! Occhio per occhio, dente per dente. Nato per nato, botta per botta. Tutti quanti insieme felici. Tutti quanti insieme felici. Nella tanna di Gessetto. Quando siamo andati in vacanza. Con Gessetto che è felice. Ma cosa stavano dicendo? Non lo so. Facci una linguaccia. Ma c'è cavalli perché il monello se l'è tolta. Non so come. Guarda che c'è cavalli intelligenti. Sì, ma non è intelligente togliersi la fascia. Sinceramente. Ciao! Permesso? Facciamo il nodo alla codina di ballini. Non uscire? No! Ti pare io? Ma! Allora, la fascia si mette prima così, poi così, poi così. Aia! Ho tirato una codata con questo nodo duro. Poi così, poi così, poi così, poi così. Poi così, aia! No, se l'ha tolta! Vedi che è intelligente. Si è slegato il nodo. Poi così, poi così, poi così, poi così, poi così, poi così. Soprattutto per puzzare i pipì perché è ancora più bello. Tanto adesso vengo nella tua macchina e ta-da! E ti pulisci i sui sedili. Esatto. La fascia! Andiamo! Ok. E niente, oggi ho montato, I'm very happy, happy, happy. Comunque ho preso spunto dalle vostre idee sotto il video in cui vi ho chiesto che vi dobbiamo fare il maneggio, non i soliti, però oggi è la recezione perché ho ricominciato a montare. E quindi presto sul canale ci saranno dei video diversi at maneggio, at in maneggio, che English. Atting. Però prima di chiudere questo video... Devi fare una cosa. Mi hanno dato un incarico molto importante, ovvero chiudere il suo portone qua durissimo. Ce la farò? Io non ti aiuto e devo riprenderti. Se non ce la faccio mettete like al video, se non ce la faccio lo mettete lo stesso. Perché non ce l'ho fatta. No. Ok. Allinamento. Con una mano, ragazzi. Con una mano ce l'ho fatta. Oddio. Se! Ci vediamo nel prossimo video, amici. Ciao! 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 Grazie a tutti.